Oggi vi mostrerò come diventare premium su Brokeven e scoprire cosa contengono tutti i vari pass. E ciao a tutti i Dreamers, miei amatissimi sui Gato Brì, io sono Francesca e benvenuti sul canale, benvenuti in un nuovissimo video di Brokeven. Oggi però non andremo a scoprire il misterio dell'Academy o dell'Accademia, a quello ci arriveremo la settimana prossima. Oggi scopriremo cosa contengono i premium Robux qui su Brokeven. Quindi ragazzi, un bel mi piace adesso, un bel bel mi piace adesso, solo perché sono sicura spenderò tantissimi, tantissimi Robux. E non dimenticate di iscrivervi al canale, tappare la campanella e così via, perché arriveranno tantissimi video qui su Brokeven e tanti altri giochi. Ma questo non vi preoccupate, non vuol dire che abbandoneremo Adopt Me, anzi. Ma adesso spostiamoci subito sul gioco e scopriamo un po' queste cose da sciopponi. Allora, eccoci qui, siamo qui fighissimi, fantastici, indistruttibili. Ci sono un bel po' di persone qui, purtroppo stanno scrivendo in una lingua a me sconosciuta, un misto forse tra russo, ucraino, non lo so. Un bello supermercato, un bello signore. Salve, e i soldi come te li do? Ciao. Ciao. Potrei aver rubato la spesa. Run! Run for my life. Allora, ragazzi, il premium. Il premium. Ma questa? Ma questa? Ci sono mai state? Ma non c'era questa. Questo deve essere sicuramente un aggiornamento. No. Verso le infinite d'oltre. Ma qui si può essere super ricchi con una bellissima yacht. Campeggio. Ma fighissimo. Tutti questi aggiornamenti qua, devo ammettere che me li sono persi. Summer camp. Cioè, non mi sembra che ci fossero quando... Cosa? No, vabbè. Scusami. Zia, ma che problema hai? Ma ti pare che ci si siede così su una panchina, scusami? Eh, questo è il modo giusto per sedersi su una panchina. Invece mi vado qua, mi gira sotto sopra. Se mi siedo qui, vado appallottolata. Se mi siedo qui, vado proprio... Va bene. Se mi siedo qui... Eh, questo è molto stiloso. E qui? Appallottolata. Ok, va bene. Allora, in realtà io ero qui per scoprire il VIP. Cosa contiene il VIP qui su Roblox. Qui su Brokeven. Allora, togliamo la Creature Mode. Chiudiamo la chat, perché comunque non capisco niente. Faces. Volti sbloccati. Accesso a tutti i volti in Avatar Editor. Ma... Attico sbloccato. Accesso all'attico all'ultimo piano. Attica genera tutti gli appartamenti. Ok. Incendi domestici senza aspettare. Accendi e spegni quando vuoi. Non devi comprarlo se stai acquisendo il Disaster Pass. Ok. Premium. Accesso alle case stellari. Accesso ai veicoli. Accesso all'elicottero. Accesso alla piscina della casa. Incendi del veicolo. Fumo e perdita della... Qualcosa non so. Colore chat esclusivo. Aggiornamento del veicolo incluso. Colore del veicolo e velocità massima. 70 km orari. Musica. Riproduci la musica nella tua casa. Auto o piccolo veicolo. Ok. Potenziamento veicolo. Accesso al colore di tutti i veicoli di proprietà. Migliorerà la velocità. 70 km. Aumenta. Vabbè. In realtà se compro il Premium non devo comprare questo. Speed. Questo ci permetterà di correre velocissimo. Ok. E questo quanto costa? 175. Eh. Mica abba zeccole. Il Premium proprio costa? 275. Vabbè. Questo sicuro ce lo iniziamo a comprare. Fantastico. Questo ce lo siamo iniziati a comprare. Quindi questo io non dovrei comprarlo. No. Scusami. Aggiornamento del veicolo. Quindi io potrei comprarlo lo stesso. Tenute sbloccate. Accesso ai lotti del nord e del sud. Questi lotti più grandi danno l'abilità di potere o... Più pozioni di gioco. Ok. Prigione, hotel e base militare. Questo lo voglio. Miii. No. Scherzavo. Scherzavo. Disaster Pack. Disaster di case e appartamento. Per coloro che vorrebbero più opzioni di gioco di loro. Terremoti, insetti, inondazioni, invasioni, alieni, perdere di casa, fantasmi, fulmini, blackout, magliori solari, vento, zombie e fuoco. Se acquistato non hai bisogno di comprare on demand file. Quindi se compriamo questo. E questo quanto mi chiedi? 500. E vabbè dai voglio provarlo. Ok. Cioè ma io questo l'ho comprato. Ok. Possiedi già questo. Quindi anche questo mi dovrebbe dire che già lo possiedo. Invece no. Quindi è un po'. Vedete? Team Park. Sblocca tutti i temi. Questo passo è per coloro che vogliono più più... Se ne esprime... I temi possono influenzare... Vabbè. Veicoli. Il veicolo sblocca 16 veicoli speciali. Terra sbloccata, accesso ad esclusivi appazzamenti di terra a Brockieman. Da possedere dove vive il passicù del lake house. Eagle view, error. Questo invece? 500. Eh ma non è che sono po'. E il cavallo. Cambia velocità, colore della carrozzeria, colore della grina e della coda. Ok voglio un altro cavallo. 60. Va bene. Lo voglio il cavallo. Andata. Fatto. Ok. Il mio acquisto è andato a buon fine. Ma voglio vedere proprio tutto quello che ho preso. Allora. Qui non vedo cose con la stellina. Perfetto. Ok. Quindi questo è ok. Timido onda... Ah vabbè queste sono le... Le cose per... Vabbè non ci interessano. I veicoli. Allora dovrei avere questo veicolo qui. Ok. Va bene. Velocità massima 45. 70. No. 45. Quindi più veloce. Più veloce. Possiamo decidere la velocità appunto del veicolo. Ok. Poi ho il cavallo. No scusatemi. Io ho comprato la cosa del cavallo. No? Come lo scelgo? La triniera? Tutto quello che avevo scelto? Ok. Nome. Il colore del nome. Va bene. Uh. Ah. Ma fighissimo. Cioè non sarebbe proprio un cavallo molto naturale così con i due cosi di ghiaccio blu. Il colore tra nero e marrone. Colore del corpo. Perfetto. Criniera bianca. E sella lilla. Andiamo a dominare. Aspettate. Massimo 50. Vado. Vai. Ptkum. Ptkum. Va bene. Ptkum. Interessante. Ptkum. Signora. Ah. Pensavo che questa persona fosse. Oh mamma. Mi sono spaventata un sacco. Ma va bene. Poi dovrei avere la jeep. Scusa cavallo. Questa jeep. Ok. Poi dovrei avere la Lamborghini tipo. Vabbè. Bella. Ok. Mi piace. Poi ci sono. C'è la moto. La limousine. Il quad. L'auto della polizia. La jeep. Altri tipi di jeep. E auto sportive. Il coso della neve. Questi si sbloccano. Ok. L'elicottero dov'è? Cioè io tecnicamente comprando il passo ho comprato l'elicottero. Forse devo andare alla stazione di polizia però per utilizzarlo l'elicottero. C'era scritto elicottero? Mono. Ah no forse era qui l'elicottero. No. Accesso all'elicottero. Ok. Ok. Quindi forse devo andare nella stazione di polizia per vedere l'elicottero. Per utilizzare l'elicottero. Perché qui nell'inventario non ce l'ho e quindi non mi spawn all'elicottero giustamente. Vabbè. Però il carrammato. Se posso andare e distruggere cose. Ok. Però non distruggo niente. È finto. È finto. Quindi i veicoli questi sono questi qua vengono sbloccati se compro poi il pass. Ok. Vabbè. La cosa della musica ragazzi io credo che ce l'abbiamo già. Che a questo punto se posso scegliere. Ok. Ok. Ce l'ho già. Infatti mi chiedevo questo fatto. Se io posso già scegliere. Ah. Ho sbloccato altri figli. Non vorrei sbagliarmi. Ma tipo ho sbloccato sì altri figli. Che mi seguono. Ok. Poi dovrei aver sbloccato tipo vestiti. Cose del genere. No. Vestiti premium. Eh sì. Tipo questo. Vabbè c'è da dire il premium per quanto costa. Secondo me da tante tante cose. Potrebbe valere comprare il premium. Questo sì. Anche se comunque ragazzi ci sono un sacco di capelli e cose fighissime che potete utilizzare. Comprare. Che potete utilizzare anche senza avere un premium effettivo. Quindi secondo me tutto fighissimo. Sì. Ma fino a un certo punto. Io non so. Devo dirvi la verità. Sono un po' indecisa se vale la pena a comprare il premium. Cioè per noi adesso l'abbiamo comprato. Poi comunque io vorrei capire adesso come togliere quest'ombra che ho sulle spalle. In tutta sincerità. È un nì per il momento. Sapete? L'aver comprato questo pass. Cioè perché alla fine che mi ha dato in più alle case stellari. Ah quindi anche altri nuovi. I veicoli stellari all'elicottero piscina. Case vediamo. Allora qui ci sono. Ok. Fammi vedere. Uh. Questa è una bella casa. Questa è proprio una bella bella casa. Un po' piccina. Qua dice comprati il pass. Ehi puoi comprare altri pass. Ah no perché forse questo l'ho comprato. Ah. Oh no. Sono insetti che volano in casa. Fuoco. Senza bug. Rimozione bug. Sì rimuovilo. Ah. Ah. Vabbè. Fighissima questa cosa. Terremoto. Rimozione fuoco. Sì. Rimozione fuoco. Voglio il terremoto. Ah ci stava mettendo un po'. Tunze. Tunze 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 tunze. Zombie. Ma lo zombie è questa ragazza che cercava di entrare. Cioè dov'è lo zombie scusatemi? è il suono dello zombie perché cioè io lo zombie proprio non ne vedo no no zi non sederti mannaggia ok ragazzi lo zombie c'è eccolo lo zombie c'è che paura ok ragazzi dopo aver perso 15 anni per colpa dello zombie credo che vada bene così fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate secondo voi vale la pena o meno comprare questi pack spendere robux per avere lo zombie per avere il terremoto per avere vestiti specifici per avere cosina in più che vi permettono di avere un roleplay migliore voi che cosa ne pensate avete il premium vorreste il premium o semplicemente vi sembra uno spreco di soldi fatemelo sapere un po' giù nei commenti e lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e soprattutto se non vedete l'ora di scoprire altri misteri di Brock Even ad esempio la soluzione dell'enigma della pasticceria che abbiamo visto mercoledì fatemelo un po' sapere e se tu che stai guardando questo video non sei ancora iscritto al canale ma cosa stai aspettando tappa qui sul pallino e poi sul tastino rosso iscriviti mentre per vedere altri video presenti sul mio canale ti basterà cliccare sulla miniatura che è qui io ti saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video ciao 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 Grazie a tutti.